Ciao ragazzi, sono Giuseppe Montefiore, detto Il Flaco, e oggi mi accingo a mostrarvi il mio nuovo arrivato, un pacchettino, e perché questo pacchettino? Perché a qualcuno di voi sarà successo di dover sostituire il vostro hard disk dal computer così come il mio, mi rallentava tantissimo, ho dovuto mettere quelli di nuova generazione, ero stato solido, da 480, e così, niente, perché buttare il vecchio hard disk e non cercare di recuperarlo? Ho pensato di andare su Amazon e comprarmi un case, un case dove poter inserire il mio il vecchio hard disk e magari riutilizzarlo come un hard disk di memoria. Adesso andremo con l'unboxing e vi farò vedere il mio nuovo acquisto. eccolo qui, eccolo qui. Allora ragazzi, all'interno della scatola troviamo un cavetto USB e qui un case pagato, una modica cifra di 9,99 euro, dove poter inserire il nuovo hard disk. Questo dovrebbe aprirsi a scorrimento, eccolo qui. Basta scorrere e all'interno va inserito il vostro vecchio hard disk che io vado a recuperare. eccolo qui, basta fare attenzione ai vari dentini che ci sono, farlo scorrere, farlo aderire perfettamente, ci sarà uno scatto. Dopodiché andremo a chiudere ed ecco qui recuperato il vostro vecchio hard disk. Magari vi lascerò il link in descrizione e ci rivediamo alla prossima. Ciao ragazzi!